Angelina Jolie star di beauty, il suo segreto è la crema al caviale La bellezza di Angelina Jolie è nota da anni al grande pubblico che ha imparato ad amarla non solo per il suo viso angelico, ma anche per il suo innato talento di attrice La star di Hollywood è considerata a tutti gli effetti una delle donne più affascinanti del mondo e, nonostante il passare del tempo, la situazione non è cambiata, il viso della Jolie è rimasto quello di un tempo Ma quali sono i suoi segreti di bellezza per apparire sempre al top? Semplice, la crema al caviale. La bellezza che sfida il tempo, Angelina Jolie è sempre un incanto Nonostante i 42 anni di età e i numerosi impegni di lavoro che la vedono coinvolta durante il giorno, la Jolie non sembra dare alcun segno di invecchiamento, la sua pelle appare sempre luminosa e compatta e il pubblico ha più volte notato questo suo tratto distintivo Il suo segreto per sconfiggere il passare del tempo è la crema al caviale che oessia quotidianamente da alcuni anni, questo prodotto è perfetto per combattere i primi segni dellinvecchiamento in modo efficace, garantendo alla pelle un elasticità davvero unica Il caviale infatti è una potente fonte di antiossidante per la pelle e Angelina Jolie Può permettersi di ricorrere a questo prodotto, economicamente esclusivo Ma questa crema è sufficiente per avere un viso da ragazzina? La star di Hollywood ha rivelato di seguire sempre tre regole all'interno della sua beauty routine, esporsi il meno possibile ai raggi del sole, truccarsi solo quando è strettamente necessario e infine idratare la pelle con la crema al caviale In questo modo il risultato finale è garantito e qualunque donna potrà sconfiggere l'azione del tempo o almeno rallentarla in misura considerevole Angelina e la sua beauty routine La sua carriera di attrice e ora di regista è un esempio di grande successo, Angelina Jolie ha dato prova di non essere solo bellissima, ma di possedere un talento artistico camaleontico innato Negli anni la star di Hollywood ha colto tutte le sfide professionali che le sono state poste con grande entusiasmo, senza però rinunciare al suo ruolo di mamma I suoi sei figli sono la gioia più grande della sua vita e ogni volta che può trascorrere il suo tempo libero con loro, ancora di più da quando la separazione da Brad Pitt è diventata ufficiale In più occasioni Angelina è stata fotografata a passeggio con le sue figlie e ha sempre esibito un fisico e un volto di una bellezza mozzafiato, poco trucco, uno sguardo intenso e luminoso e un corpo slanciato da far invidia a qualunque modella Ma quali sono le regole della sua beauty routine? Come prima cosa, Angelina idrata il suo corpo bevendo circa 3 litri di acqua al giorno, questo è il primo segreto da rispettare per il proprio benessere fisico Inoltre l'attrice ha eliminato i cibi spazzatura e si dedica ad un'intensa attività fisica, le sue discipline preferite sono lo yoga, perfetto per ritrovare la propria serenità e concentrazione, e il kickboxing, ideale per sfogarsi ed imparare alcune tecniche di autodifesa Angelina Jolie dedica molto tempo alla cura del suo corpo e le sue abitudini quotidiane le permettono di apparire sempre nella sua forma migliore, immancabile poi l'uso di prodotti naturali per il viso e di creme idratanti per mantenere la pelle del corpo morbida e liscia Angelina Jolie